Misericordia Gesù, misericordia sei Tu. Tu sei bellezza, tu sei purezza, tu sei pienezza. E voi siete tutti fratelli. Sono parole pronunciate da Gesù all'indirizzo della folla e dei discepoli in Gerusalemme. Uno degli ultimi discorsi di Gesù prima di andare incontro alla sua passione, riportato dall'Evangelista Matteo. Un appello, un invito di Gesù a superare il desiderio umano di farsi grandi, di esaltarsi, di sostituirsi al Padre e al Maestro, dunque a Dio e a Gesù Cristo. Una tentazione questa che può cogliere anche noi quando smettiamo di farci servi, l'ideale della fraternità umana, quando non ci prendiamo cura gli uni degli altri, come questo tempo segnato dal Covid-19 drammaticamente impone. Il Covid-19 ci ha resi più avidi o più generosi, ci ha fatto chiudere le saracinesche del cuore al pari di quelle dei negozi e soprattutto ci ha fatto abbreviare le distanze tra il nostro cuore e il cuore del mondo ferito, che muore più facilmente di indifferenza che di coronavirus. E dunque, torna a ripeterci Gesù, voi siete tutti fratelli. Una parola del Signore che va verificata, che va attualizzata, che va praticata con nuovi esiti di carità fraterna, che, lo ricordiamo, è sempre spirituale e materiale insieme. Con queste premesse e per queste ragioni abbiamo indetto la 44esima conferenza nazionale animatori online del rinnovamento nello spirito, in programma sabato 12 e domenica 13 dicembre prossimo. Sulla scia del felice esito dell'Alleluia International Web Meeting e degli esercizi pastorali per sacerdoti, diaconi e religiosi, torniamo a incontrarci online attraverso la speciale piattaforma digitale appositamente pensata nel sito web del rinnovamento nello spirito. Vogliamo superare le distanze che ci derivano dalle disposizioni legislative con una speciale prossimità spirituale, onorando così anche l'invito di Papa Francesco contenuto nella sua ultima enciclica sociale Fratelli Tutti. Nessuno si salva da solo. Dunque nessuno può rimanere da solo, può rimanere isolato. C'è bisogno di tutti e di ciascuno. Possiamo fare di più, possiamo fare meglio, ma soprattutto possiamo farlo insieme. Nel corso della 44esima conferenza nazionale animatoria online ascolteremo brillanti relazioni ispirate da temi biblici e da sottotemi desunti dalla enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti e poi dalle nostre realtà locali toccanti testimonianze di carità fraterna e elaboreremo impegni comuni di carità materiale e spirituale, pensando ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, alle nostre famiglie, agli anziani, ai sacerdoti, al contempo soggetti e destinatari della nostra carità fraterna. Vogliamo così invitare gli animatori, i responsabili, gli anziani dei 1700 cenacoli, gruppi e comunità del rinnovamento nello spirito presenti in Italia e in altri paesi del mondo a ritrovarsi insieme, sabato 12 e domenica 13 dicembre, in quattro sessioni, due mattutine e due al pomeriggio, agili nei tempi e costruite intorno a due parole chiave. Sabato sarà la consolazione e domenica la compassione. Sentiremo la voce dello spirito che ci chiama a un nuovo servizio, a una ministerialità d'amore ancora più profonda, più significativa, in questo tempo così bisognoso di salvezza. Vivremo intense esperienze spirituali comunitarie di lode, supplica, adorazione, consolazione, guarigione, liberazione. E del resto, come possiamo prenderci cura degli altri se non permettiamo prima allo spirito di prendersi cura di noi? Carissimi che mi ascoltate, mettiamoci al lavoro, apriamo insieme il cantiere della 44esima conferenza nazionale animatori online del rinnovamento nello spirito santo e intensifichiamo le preghiere. Moltiplichiamo questo invito in ogni modo, approfondiamo attraverso la formazione online i temi specifici della conferenza. Vogliamo preparare una nuova grande effusione dello spirito che sia a causa di una nuova nostra incarnazione d'amore nella storia per quanti ci stanno attendendo. 44esima conferenza nazionale animatori online E voi siete tutti fratelli, nessuno si salva da solo. Sì, io e te, noi con voi e il rinnovamento nello spirito per tutti. La carità è paziente, la carità è benigna, e si compiace della verità. Tutto essa tollerà, tutto crede e spera, non finirà la carità. Grazie a tutti.